Come preparare il roast beef all'inglese? Ci servono 500 g di carne per roast beef tipo girello, lombata, olio extravergine di oliva, 2 cucchiai, 100 ml di vino bianco, rosmarino, timo, salvia, sale e pepe. Questa è la preparazione. Preriscaldare il forno a 200 gradi, versare l'olio extravergine di oliva in una casseruola che può anche andare in forno, scaldare, adagiare il roast beef e farlo rosolare sigillando bene ogni lato e senza bucarlo con la forchetta. Aggiungere gli odori e quando la carne sarà bella dorata versare il vino bianco e sfumare. Trasferire la casseruola con la carne in forno caldo a 200 gradi e cuocere per 20 minuti. Se invece amate un roast beef un pochino più cotto tenetela in forno per altri 5 minuti. A fine cottura fuori il roast beef dal forno. Mettetelo su carta di alluminio, salate, pepate e avvolgete per 5 minuti. Trascorso il tempo tagliatelo a fette sottilissime e servite. Buon appetito! Come preparare il roast beef all'inglese. Ci servono 500 grammi di...